buongiorno amici adesso posso toglierla mi trovo al lago di nemi nei chieselli romani nel parco naturale protetto ho fatto una bella camminata siamo siamo sto con mio marito abbiamo fatto quasi adesso per tornare cinque chilometri vi metto anche qualche foto per farvi vedere questo meraviglioso lago volevo dirvi che non sono sparita sto facendo una pausa pre estiva però voi continuate a vedere i miei video ce ne avete tantissimi se andate sulla playlist e ne trovate di tanti di pane dolci continuare a seguirmi le domande sempre sotto i video faccio quel che posso rispondere a tutti naturalmente bene continuo la mia camminata ciao buona giornata a tutti ci vediamo prossimamente ciao 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 ciao